Contatti telefonici con la signora garantendo il massimo di assistenza anche per il tramite delle ambasciate dell'unità di crisi della Farnesina e al tempo stesso stiamo mettendo a disposizione degli ucraini presenti a Palermo le attività dell'amministrazione comunale per facilitare i riconoscimenti e per accogliere i tanti che sono i vittimi di questa assunta guerra provocata dalla Russia. Ancora una volta concretamente l'accoglienza nei confronti dei profughi del Mediterraneo così come l'Ucraina.